Un referendum per tornare alla provincia di Novara. La proposta arriva dal consigliere comunale di Omenia Galizzi dopo gli ultimi sviluppi sul fronte della sanità. La sua intenzione è quella di formalizzarla nel prossimo consiglio comunale. Galizzi parla di un territorio, quello di Omenia, che è stato ignorato dal governo Cirio. Ad Halloween intensificati i controlli dei carabinieri per frenare l'abuso di alcol fra i giovani. A gravella una tolce militare in borghese fuori dai supermercati. Una ragazza aveva il carrello pieno di superalcolici per un valore di 100 euro. I militari le hanno chiesto cosa dovesse farne, ma lei non ha fornito risposte se non vaghe fuori dal supermercato. L'aspettavano cinque minorenni. I carabinieri le hanno portati in caserma e hanno chiamato i genitori. La ragazza è stata invece libera di tornare a casa, portandosi dietro la scorta di superalcolici. Partnership tra l'Associazione dei Cori Piemontesi e l'Ufficio Scolastico Provinciale per la diffusione della coralità nelle scuole provinciali. All'interno di alcuni istituti del territorio esistono già cori che svolgono un ruolo molto importante di condivisione e inclusione. Al coro possono partecipare tutti gli allievi, indipendentemente dal livello di approfondimento. Questo progetto vuole valorizzare i collegi esistenti e promuoverne altri per arrivare alla creazione di un coro delle scuole del BCA. Sfere protagonista l'arte ossolana e dei Sacri Monti con Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte ha raccontato Tanzio da Varallo e l'ha equiparato a Caravaggio. Tanzio da Varallo ha lasciato importanti testimonianze della sua arte nel territorio di Domodossola, nella chiesa collegiata dedicata ai Santi Gervaso e Protaso e nella chiesa di San Brizio a Vagna. Sgarbi ha promesso un ritorno in zona per continuare a sondare i tesori artistici locali. Bocce, Possaccio conferma il tris e attende i veri rivali di stagione. Il Possaccio dunque colpisce ancora, vince la terza sfida di campionato nella più lunga trasferta dell'anno a Marsala. Per 6 a 2 mantiene la vetta della classifica in coabitazione con la rinascita, prossima e durissima avversaria. Ed ora la linea Domenica Sport. Buonasera, ben ritrovati con Domenica Sport, calcio, basket e polismo nel menù di questa sera. Ma non possiamo non aprire il nostro appuntamento con l'ennesima grande impresa di Filippo Ganna che ha firmato il nuovo record del mondo nell'inseguimento, come sempre in questi casi. Ce ne parla Gianluca Trentini. Non sarebbe davvero facile trovare aggettivi per Filippo Ganna, se non qualcosa che rasenti il superlativo assoluto. Sì perché a Minsk, dove si è corsa la prima prova della Coppa del Mondo in pista, il vignonese del team Ineos, che ha portato il quartetto dell'inseguimento a squadre sul podio e sempre più vicino alle Olimpiadi di Tokyo, ha disputato in extremis anche la prova individuale della quale è campione del mondo in carica ed ha vinto in carriera tre iridi. Lo ha corsa facendola davvero grossa, andando a devastare il record del mondo con il tempo di 4.05.423 che apparteneva ad Ashton Lambie. Da prima in qualificazione, bardato della sua maglia iridata, Filippo gira fortissimo e stacca un 4.04.252 che gli permette di siglare la nuova miglior prestazione mondiale, girando ad una media di 58.956. Grandi applausi e grandi celebrazioni per il nuovo record che tutto sommato Filippo inseguiva sin dai tempi del suo primo titolo iridato e finale conquistata, fattore passato quasi in secondo piano, contro il britannico John Archibald che ha girato in 4.09.843. La finale è stata una apoteosi. Carico galvanizzato, esaltato, Filippo ha scaricato sul legno del velodromo bielorusso tutta la sua potenza, unita all'eleganza nel gesto. Da subito si è capito che c'era nell'aria qualcosa di storico che si stava materializzando, un enorme 4.02.647 che è un nuovo record del mondo, migliorando di quasi due secondi il suo crono precedente e distruggendo il precedente tempo di Lambie, peraltro ottenuto in Bolivia con condizioni climatiche offerte dall'Artura decisamente migliori, di quasi tre secondi. Non ci sono parole, semplicemente una prestazione impressionante per questo ragazzone di Vignone, giovanissimo, per il quale citando una battuta di una recente fiction televisiva, il futuro è tutto da scrivere. Peccato solo che Luci abbia tolto dal programma olimpico l'insuoguimento individuale, una decisione veramente scellerata. E lancio al volo un sondaggio tra i nostri telespettatori, se secondo loro era più carico, galvanizzato Gianluca Trentini o invece il grande Filippo Ganna. Ovviamente scherziamo, complimenti a Filippo per questa nuova, grande, grandissima impresa. Adesso parliamo di calcio, lo facciamo andando a vedere due servizi relativi alle nostre squadre. Cominciamo, anche perché ha giocato prima, quindi in ordine cronologico con il Novara, sconfitto 1-0 alla Mocagatta nel derby dell'Alessandria. In una serata tipica di novembre con nebbiolina e tasso di umidità a livelli estremi, l'Alessandria fa sui le derby numero 97 della storia con il Novara, un risultato che premia la maggiore esperienza e forza fisica dei grigi, mentre gli azzurri nel clima da battaglia hanno denotato i difetti tipici di una squadra con tanti giovani. Un match tutt'altro che spettacolare, con poche emozioni ed occasioni. Dopo le scaramucce iniziali per prima, pericolosa la formazione di casa al minuto 15. Cross di Celia da sinistra, conclusione al volo di Arrighini, ma la palla è alle stelle. Al ventiduesimo i pericoli per la porta del Novara sono maggiori, ma Marchegiani ci mette la punta delle dita e si rifugia in corner sul bel colpo di testa di Eusepi. È il preludio al gol che si materizza al ventottesimo. Errore in disimpegno degli azzurri, Castellano mette in mezzo e l'ex di giornata, con uno stop a seguire, mette fuori causa Bellic e scarica una diagonale preciso e potente che significa 1-0 Alessandria. Il Novara ha incassato il colpo, fatica a reagire, ma al 37esimo costruisce forse la miglior chance della sua partita. Spunto di Piscitella sulla destra, palla retrata per il rimorchio puntuale di Cassandro, che però viene murato. Prima della fine del primo tempo ci prova Capanni dalla media distanza, ma per Valentini non ci sono particolari problemi. Nella ripresa ci prova la 49esimo Buzzegoli con una punizione che termina a lato di circa mezzo metro. L'Alessandria al 53esimo vanifica una contropiede che poteva dare ai grigi il raddoppio. Il 3 contro 1 non è gestito benissimo Rei Mandrogni con l'ultimo passaggio di Arricchini, troppo lungo. Lo stesso attaccante di casa a 61esimo manda al Barlin, certo Bellic, e prova il sinistro a giro. Marcheggiani attento. Sul ribaltamento di fronte Novara in 10 secondi ha tre volte la chance per pareggiare. Prima Bubba trova la grande risposta di Valentini, quindi Nardi viene murato da Cosenza e poi Bianchi calcia alto da ottima posizione. I ragazzi di Banchieri si sbilanciano e prestano il fianco alle ripartenze dei grigi. Al 64esimo Eusepi calcia da fuori. Marcheggiani sventa la minaccia. Minuto 71 lancio di Buzzegoli per alta che viene anticipato in uscita dall'attento Valentini. All'81esimo il sinistro all'uscire di Cagnano dai 25 metri si spegne a lato non di molto. Il Novara ci prova fino all'ultimo ma il risultato non cambia e così i grigi possono festeggiare sotto la curva nord. E ci voleva invece il ritorno al successo del Gozzano, la prima storica vittoria allo stadio d'Albertas. La prima vittoria dopo otto partite. Per i ragazzi Sassarini. Il Gozzano ritrova il sapore dei tre punti dopo otto giornate. Ed è il primo storico successo nel rinnovato stadio d'Albertas per i Rosso Blu. Che non vincevano in casa dallo scorso gennaio quando sconfissero 4-0 nella loro casa, vale a dire, il Piola di Vercelli, il Cuneo. Una vittoria tutto sommato meritata ma anche importantissima in chiave classifica, quella conquistata dalla squadra di Sassarini. Nel primo tempo, soprattutto nella parte iniziale, non succede granché. Gli ospiti ci provano senza troppa convinzione in un paio di circostanze con Genevieve e con Sibilli. Il Gozzano invece trova il gol alla prima vera occasione. Minuto 41, illuminante, pallone di Rolle per Bucca fino a quel momento evanescente. Grande stop e splendido tiro che fa secco. Sabini nella parte del recupero del primo tempo è straordinario Crespi che riesce a salvare il vantaggio del Gozzano con una grandissima parata su Gavazzi. Nel secondo tempo l'Albino Leffe premia sull'acceleratore e in 25 minuti produce 4 clamorose occasioni per l'1-1. La prima capita a Genevieve, conclusione potente sulla quale tenta di metterci le piede Cucco ma non indirizza bene al 53esimo. Stupenda triangolazione Sibilli-Cucco-Sibilli. Ma Crespi è nuovamente incredibile nel negare la gioia del gol ai Bergamaschi. Tre minuti dopo e Tordini si fa sorprendere favorendo l'inserimento alle sue spalle di Sibilli. Il diagonale del 96 partenopeo però è impreciso. Al 25esimo ancora Sibilli in mezzo all'area di rigore si gira. Crea una grande occasione ma il Gozzano si salva. Gozzano che dopo la sfuriata dell'Albino Leffe va vicino al 2-0 con una magia, una chicca, una meraviglia di fedato da fuori aria. Il suo tocco dolce, una specie di cucchiaio, va a sbattere sulla traversa. Alla 42esimo arriva poi il gol del 2-0. Ancora Rolle nella versione Assismen per Bruzzaniti che segna il suo secondo gol con la maglia del Gozzano e può far esplodere panchina e pubblico. Dello stadio d'Albertas è vittoria. 2-0 Andiamo adesso a vedere i risultati e classifica della serie di Caronnese-Fezzanese. 6-3 nello scontro al vertice. Sarremese-Givizzano 1-1. Il Bra vince il derby 1-0 con il Fossano. Savona-Borgossesi a 2-0. La Real Forte-Querceta passa 2-0 a Ligorna. Seravezza-Pozzi vado 5-1. Merbagna-Lavagnese 1-1. Chieri-Casale clamoroso 1-3. Prato-Lucchese anche questo clamoroso 0-1. Classifica cortissima con tante squadre racchiuse in pochi punti. Ben 12 in 4 punti. Caronnese-Casale-Real Forte-Querceta 18. Fezzanese 17. Prato-Chieri-Sarremese 16. Givizzano 15. Fossano-Seravezza-Pozzi-Lucchese 14. Poi il Borgossesi a 13. Savona 11. Brali-Gorna 10. Il Verbagna-Assale a quota 9. Lavagnese 7. Chiude il Vado con 6 punti. Andiamo al Pedroli 1-1 tra Verbagna e Lavagnese. Alessandro Pratesi. Pareggio per 1-1 nel match del Pedroli tra Verbagna e Lavagnese. Con la partita che vede i due gol realizzati proprio nel finale di gara. Ma andiamo in cronaca a vedere quello che è successo nella giornata piovosa del Pedroli. Le prime due occasioni sono di marca ospite. La prima è con Dorsi che da dentro l'area di rigore calcia alto. E poi con Bellucchi che è servito da Orsi. Prova il tiro ma la palla termina larga. Ancora ospiti poco prima del ventesimo con un'azione con la classica azione esterno per esterno. Con il cross di Oneto e con Casagrande che mette alto il tiro al volo. Occasione più unita nel primo tempo. Capita il Verbagna al ventunesimo con Gatti che colpisce la traversa. E poi la palla ci sembra che cada nettamente in campo. Perciò l'azione riprende con la palla alla Lavagnese. Con Gatti che prende la traversa. La palla che rientra sul terreno di gioco. Alla mezz'ora è Ustonia a sfiorare la rete di testa. Bello il traversone di Panzani. Bello anche l'anticipo dell'attaccante del Verbagna che però non trova la porta. Al trentasiesimo cerca il gol d'autore d'Orsi con un tiro a giro. Che però non trova l'incrocio dei pali. Nel secondo tempo ci prova subito il Verbagna con un tiro al volo di Pezzati che Nassano blocca. Ancora Ustonia con la specialità della casa e il colpo di testa. Che però anch'esso non trova lo specchio della porta. Verbagna pericoloso al sedicisimo con un cross di Gambino. Con il colpo di testa di Ramponi a lato. Al ventisettesimo si libera bene in aree. Non è entrato per asso ma la girata è debole e Russo può controllare. Al trentaquattresimo rimangono in dieci gli ospiti per Queirolo. Che fa un fallo su Ibe. Poi probabilmente per proteste gli viene il giocatore. Gli viene dato il secondo giallo. Anzi il rosso di rete. Perciò la lavagnese rimane in dieci. Due minuti dopo il Verbagna passa con un vero e proprio pezzo di bravura di Gatti. Che più che un difensore sembra un centro avanti. Controlla la palla. La tira. La palla gioca di sponda. Da un bacio al palo. Entra in porta per l'1-0. Quando la vittoria sembra in cassaforte per la compagina di Galeazza. Arriva il pareggio della lavagnese. Bagnato mette la palla in mezzo. Avellino la spizza. Ed è 1-1. Punteggio col quale termina la gara del Pedrolli. Con un punto a testa per Verbagna e la lavagnese. Scendiamo adesso in eccellenza per scoprire i risultati. Con la prima sconfitta stagionale della capolista Aigreville nel derby con il Pondonals. Vediamo dunque quello che è successo. Baveno-Borgaro 3-3 pro Eureka. Alicese 4-1. Così come Fugor-Vallengo-Terrino. Terza vittoria consecutiva per i ragazzi di Melano. Sprofonda sempre più il Terrino. Pensate un po' 16 gol incassati nelle ultime quattro partite. La Roce con Bugno vince 1-0 sul campo della Rivoli. 2-2 tra Accademia Borgomanero e Stresa. La Biellese supera 3-1. Lo Leggio, Borgo-Vercelli, Pianese 1-1. Pondonà-Aigreville 2-0. Classifica con l'Aigreville che mantiene la vetta. 20 punti. Borgo-Vercelli 18. Il Pondonals sale 17. Poi la sorpresa biellese insieme alla Roce a 15. Borgaro e Accademia Borgomanero 14. Baveno 12. Con la Licese-Orizzonti. Pianese 10. Stresa, Rivoli. Fugor-Vallengo 9. Pro-Eureka 8. Olegio 5. Chiude il letrino con 4 punti. Vediamo il pareggio 1-1 tra Borgo-Vercelli e Pianese. Franco Filippetto. Finisce 1-1 tra Borgo-Vercelli e la Pianese alla comunale di Borgo-Vercelli. Riescono ad agguantare il pari a 4 minuti dalla fine i padroni di casa in una partita dove hanno sofferto nel primo tempo e si sono un pochino riscattati nella ripresa. Un primo tempo soprattutto nell'ultimo quarto d'ora che ha visto la squadra ospite primeggiare. All'undicesimo Pasquero di testa si ora l'incrocio alla destra di Cantele. Al ventisettesimo Rosso dalla bandierina tiro di Fassari Cantele alza sopra la traversa. Al trentesimo Traversone dalla destra di Rognone sul primo palo di testa e parata ravvicinata di Di Tunno. Alla trentasettesimo Cantele esce sui piedi di Mascolo che si era involato sulla sinistra. Alla trentotesimo il gol, un minuto dopo Mascolo prova da lontano con un tiro che si infila alla sinistra di Cantele. La pianese passa quindi in vantaggio. Nella ripresa, secondo minuto Gran Botta da 20 metri di incontri, palla fuori di mezzo metro. Al quarto girata al volo di Pasquero a Branca Tunno. Al settimo doppio cambio per Moretto esce incontri per Bacimari e Miglietta per Petrillo. Al dodicesimo parata di Di Tunno su conclusione di Petrillo. Al ventiduesimo girata al volo che si perde di un soffio alato. Borgo vicino al pareggio. Alla trentesimo sterile la supremazia del Borgo Vercelli che manca una grossa opportunità per pareggiare. Pareggio che arriva al quarantunesimo quando mancavano quattro minuti al termine. Trevisio per Petrillo gol del 18 che infila alla sinistra di Di Tunno per il pari. Quindi risultato finale a Borgo Vercelli. Borgo Vercelli 1, la Pianese 1. Risultanza un po' polemica da parte dell'attaccante del Borgo Vercelli. 3 a 3 tra Baveno e Borgaro. Tante polemiche, tanti gol. Vediamoli. Succede davvero di tutto alla Galli. Sei gol, emozioni, due reti annullati. Non ha tradito le attese. Il match tra il Baveno ed il Borgaro partite entrambe per essere protagoniste nel campionato di eccellenza nei primi minuti. Meglio i padroni di casa che si fanno vedere in due circostanze con il solito Sanzano che fa scorrere dei brividi lungo la difesa dei torinesi. All'undicesimo grande occasione con Merio che serve Sanzano il suo tocco è centrale. Tullino blocca al diciassettesimo però il Borgaro passa incredibilmente in avantaggio sugli sviluppi di una corner con la sfortunata deviazione di schiena di Ramallo che mette alle spalle di Chiodi. Chiodi che poco dopo è davvero straordinario sulla botta dalla distanza di De Bonis il suo intervento salva il Baveno. Prima della ripresa c'è un'altra chance per Sanzano la cui conclusione viene disinnescata dall'estremo difensore ospite nella ripresa e il Baveno insiste e arriva al gol dell'1-1 pregevole assist di Merio per Romano che da centro area trova di prima intenzione una grande deviazione la palla va sotto l'incrocio dei pali. Poco dopo lo stesso Romano approfitta di una dormita difensiva del Borgaro e di testa capovolge la situazione. Il Borgaro dopo aver incassato il gol del 2-1 si rigetta nell'area del Baveno e arrivano davvero due episodi molto molto controversi al dodicesimo il gol del 2-2 con il colpo di testa di Noia che però viene annullato per una presunta posizione di offside che in realtà non c'è davvero clamoroso quello che succede al diciannovesimo la palla in dietro in effetti viene servita da un giocatore del Baveno intercettata da Varvelli che riesce a servire Perrelli che di fatto porta vuota segna l'assistente rabbisa una clamorosa posizione di offside tra le vibranti polemiche dei torinesi al ventinovesimo il gol del 2-2 però arriva con il tiro di Varvelli su cui Chiodi non sembra esente da colpi le emozioni non sono finite il Baveno trova il gol del nuovo vantaggio al trentaduesimo la giornata di Grazia ancora di Romano che fa 3-2 di testa nel finale alla 44esimo l'esperto cacciatore appena entrato protegge palla e scarica in rete in spaccata per il gol del definitivo 3-3 andiamo adesso nel campionato di promozioni dove c'è una nuova capolista è la Juve Domo di Italo Morelini quarta vittoria consecutiva 1-0 nello scontro diretto con la Dufur Varallo Vuleve Linsago Costato 1-1 Sizzano Vigliano 0-2 Dormelletto Santia 1-2 Valduggia Vogogna 2-0 Biancé Sparta-Novara 0-0 Dufur Varallo Juve Domo come vi ho detto 0-1 Briga Omenia 1-0 Piedi Molera Arona 2-1 Classifica con la Juve Domo in vetta davanti a tutti i Granata con 19 punti 1 in più del Vigliano a 18 Briga Dufur Varallo 17 Valduggia Omenia 16 Sparta-Novara Sizzano 14 Santia 13 Bule Beninzago 12 Cossato Piedi Molera 11 Dormelletto 9 Biancé 8 Arona 3 Chiude il Vogogna con un punto prima partita di promozione lo sconto tra Briga e Omenia vinto dai padroni di casa 1-0 nel finale Il calcio è davvero tutto tranne che una scienza esatta ne sa qualcosa l'Omenia che abbriga specialmente nel secondo tempo costruisce occasioni in serie ma viene trafitta in pieno recupero da un micidiale contropiede dei padroni di casa che vincono partita e conquistano l'intera posta in appaglio una partita che si apre dopo due minuti con una cross di Ado per Comparoli che non ci arriva per una questione di centimetri al decimo da sinistro di Perini è facile preda di Bacin al 12esimo si vede il briga con Asole che se ne va in ripartenza bravissimo Barzoli in uscita a sbarragli la strada al 14esimo Cabrini recupera il pallone e poi decide di concludere dalla media distanza e dal suo tiro è facile preda del portiere di casa al 21esimo cross di Racis Cabrini con una deviazione che termina alta al 31esimo il briga si rende davvero molto pericoloso prima con Asole Marzoli dice di no e poi con Audi la sua conclusione invece è centrale non ci sono problemi per il portiere dell'omenia al 39esimo e da destro di Cabrini viene deviato da un avversario e finisce fuori per una questione di centimetri al 42esimo punizione di Perini palla decisamente alta sulla traversa nel secondo tempo è un monologo rossonero alla terzo Usei alla palla buona e la sua diagonale si perde a lato da favorevolissima posizione alla quinto Addo fa tutto bene stop dribbling finta tiro che sembra andare nell'angolino basso viene però fermato dal palo dunque l'omenia non va in vantaggio alla 14esimo semi rovesciata del subentrato Elka salva Moretti sulla linea al 20esimo altra clamorosa doppia chance per i rossoneri prima con Elka e poi con Paroli ma la porta della briga sembra davvero stregata e lo è al 27esimo colpo di testa di Cabrini miracolo di Baccini che salva il risultato la briga dal 30esimo in avanti rischia di meno al 34esimo si vede con Cataldo la cui girata termina alta al 45esimo al 90esimo di fatto altra occasione per l'omenia sugli sviluppi di un corner sul ribaltamento di fronte difesa completamente sguarnita e scoperta Audi il migliore in campo insieme a Gimini è bravissimo a difendere la palla a servire nello spazio Asole che stoppa si porta la palla sulla destra e fulmina Marzoli facendo esplodere la propria panchina e regalando 3 punti al briga 3 punti d'oro anche per il piedimulera che torna a sorridere 2 a 1 contro la Rona invece sempre più giù dopo una serie di risultati negativi il piedimulera torna alla vittoria e lo fa tra le muramiche contro la Rona con il risultato di 2 a 1 in una partita giocata a ritmi molto alti e sotto un'incessante pioggia la cronaca partono bene i ragazzi di mister Poma che dopo soli 8 minuti sbloccano il risultato scambio sulla destra tra Mammucci e Rampi palla al limite dell'area per Progni che con il suo solito sinistro fulmina Cavadini al tredicesimo ancora Progni circondato da uomini trova il varco per Damiani conclusione centrale Cavadini blocca azione similare un minuto dopo questa volta Progni cerca Rampi l'estremo difensore ospite fa sua la sfera la risposta della Rona arriva al ventesimo grazie ad una percussione sulla destra di notte che trova centralmente Ferrari tiro di prima di potenza che si spegne sul fondo nei minuti successivi ci provano per i gialloblufi Andacca al ventunesimo e Progni al ventisettesimo ma entrambi non inquadrano lo specchio della porta da ottima posizione al ventinovesimo i Lacuali riportano il risultato in parità grazie ad un'invenzione di Gianni che fa 20 metri palla al piede e lancia per via centrali Vergadoro che a tu per tu con Galli non gli lascia scampo gli ossolani non subiscono il contracolpo e dopo una fase di riassestamento al quarantatresimo si riportano in vantaggio schema su corner di Progni palla in mezzo di Damiani e tocco di mani di Motta il direttore di gara non ha dubbi e assegna il penalty per i gialloblu che Ardizzoia concretizza spiazzando Cavadini prima dell'intervallo la Rona è pericolosissima al quarantaquattresimo grazie ad un'imbocata dalle retrovie per Capitan Motta ma Galli è semplicemente miracoloso e la corrente Vergadoro si trova in posizione di fuorigioco al rientro dagli spogliatoi occasionissima per gli ossolani al dodicesimo con Mammucci che sulla destra si beve due avversari e mette in mezzo rasoterra per Ardizzoia che sottoporta non ci arriva per un soffio al diciottesimo ci prova Gianni su punizione ma va di poco alto sopra la traversa la Rona spinge sull'acceleratore alla ricerca del pareggio ma al ventinovesimo rimane in dieci lancio dalle retrovie uscita di Galli e palla sulla linea di fondo sui piedi di Motta Mammucci entra in scivolata sulla palla e Motta rimedia al secondo giallo per simulazione pareggio bianco-verde che potrebbe arrivare al trentunesimo quando su corner di Ferrari Vergadoro svetta imperioso Galli è semplicemente strepitoso e gli nega la gioia del gol Galli chiama Cavadini risponde al trentatresimo il portiere ospite è miracoloso sul tiro a botta sicura di Mammucci e con la punta delle dita manda in angolo non succede più nulla e termina così due a uno ultima parte di promozione il Dormelletto che viene superato in casa dal Santia due a uno Daniele Bagnati Dormelletto Santia seconda vittoria consecutiva per il Santia che sbanca Dormelletto per due a uno occasione clamorosa in avvio per i ragazzi di D'Agostino Comotto offre un cioccolatino a Traversini che manca incredibilmente l'impatto con il pallone la risposta di Dormelletto sul tiro a giro di Poletti tutto facile per De Perù al quattordicesimo seconda occasione clamorosa per gli ospiti questa volta Zalmanian ha di volarsi il gol a tu per tu con Bertoglio che in uscita disperata riesce a salvare la propria porta sul ribaltamento di fronte punizione di Albanese tutto facile per De Perù continua a rendersi pericoloso il Santia Zalmanian per Sebastiano Comotto Bertoglio in due tempi fa solo la sfera alla mezz'ora bello spunto sulla sinistra di Martella De Perù respinge un minuto dopo Dormelletto in vantaggio con il classe 2002 Maurizio Zardi che sottoporta e freddissimo nel battere il portiere ospite tre minuti dopo padroni di casa vicinissimi al raddoppio De Perù versione garella risponde con i piedi al tentativo di Bonomi nella ripresa dopo tre minuti Albanese aggancia Federico Comotto in area di rigore il signor Giovannini di Ivrea non ha dubbi ed indica il dischetto dagli undici metri Zalmanian trasforma tre minuti dopo situazione ribaltata al termine di una splendida azione colale Zalmanian raccoglie palla si gira e trova lo spazio per far partire un diagonale che non dà scampo a Bertoglio il Dormelletto prova ad agire all'uno-due ospite con il positivo Montanese conclusione fuori di un soffio dopo una bella azione personale al trentaduesimo secondo rigore di giornata per gli ospiti l'Icaterra ne è un tratto Pairotto anche in questa occasione il direttore di gala indica il dischetto dagli undici metri si ripresenta Zalmanian Bertoglio si supera e respinge al novantesimo punizione di Martella palla alta sopra la traversa ci prova ancora calcio piazzato dormelletto la punizione di Romano al terzo di recupero è pericolosa la parata di De Perù semplicemente decisiva andiamo in prima seconda e terza categoria per vedere i risultati Fomarco Cannobiese Clamoroso 1 a 7 Serravallese Olegio Castello 1 a 1 Ornavassese Gattinara 0 a 2 la Virtus Villa perde 4 a 3 in casa con il trecate che aveva cambiato allenatore a Grano Uomo 0 a 2 San Nazaro Sesi Aferiolo 1 a 1 Comignago Crevolese 1 a 1 San Martinese Borgula Vezzaro 4 a 2 classifica con Virtus Villa San Nazaro Sesi in vetta 18 Cannobiese Sale a quota 16 Gattinara Serravallese Efo Marco 15 Momo Ferriolo 14 Crevolese 12 Ornavassese 11 Agrano San Martinese 9 Borgula Vezzaro 8 Trecate 7 Oleggio Castello Comignago 5 punti Seconda categoria vediamo i risultati Mergozzese Voluntas 1 a 2 a 3 Veruno San Pietro Gravellona 1 a 4 Casale Cottecerro Amatore Castelletto 3 a 2 Riviera D'Orta Crodo 1 a 2 Barzese Romagnano 7 a 2 Dinomo Bagnello Armeno 0 a 2 Maggiora San Maurizio 3 a 1 Classifica con Varzese Gravellona San Pietro Invetta 20 Veruno 18 Armeno 17 Voluntas 1 a 14 Maggiora Crodo 11 Dinamo Bagnello 10 Riviera D'Orta Casale Cottecerro 9 San Maurizio 8 Mergozzese 6 Amatore Castelletto 5 Ultimo Romagnano con un punto e chiudiamo con la terza categoria Montecrestese Voluntas Villa 1 a 1 Fondo Toce San Vittore Pregliese Branzac United 1 a 7 Barengo Varale Pombia 5 a 4 Branzac United Invetta con 19 punti San Vittore 16 Varale Pombia 12 Montecrestese 11 Voluntas Villa 10 Mezzo Berico Barengo 7 Gargallo 6 Provvigezzo 5 Pregliese 3 Chiude il Fondo Toce con un punto per il basket netta vittoria della Paffoni che non ha avuto difficoltà sul parquet di Montecatini nel Serie D vince anche la Polio Posti fin d'uomo al supplementare sul parquet di Novara chiudiamo con l'Atletica la vittoria della nona Sporto e Lago Maggiore Marathon è andata ad Andrea Soffientini dell'Azzurra Garbagnate Milanese in 2 ore 36 minuti 12 secondi secondo posto per Andrea Perinato di Sport e Sportivi in 2 ore 47.07 terzo gradino del podio per Massimo Carnelli dell'Avis Marathon Verbagna 2 48 e 39 tra le donne successo della Britannica Katie Durst in 2 ore 59 31 al secondo posto la portacolori italiana e sarda Rita Angela Spanu del Cagliari Marathon Club che ha pagato Dazio di circa 12 minuti sul terzo gradino del podio la spagnola Paola Serrano in 3 ore 17 minuti e 52 secondi come sempre piove alla Sport Lago Maggiore Marathon con questa notizia noi chiudiamo e la Sport Lago Maggiore Marathon sarà dedicata alla puntata di Sportivamente di giovedì grazie per essere stati con noi questa sera la telecronaca di Briga Omenia Grazie a tutti